Venevia, giù le mani dalla Varsusa! Venevia, giù le mani dalla Varsusa! Venevia, giù le mani dalla Varsusa! L'installazione ha prevalso il generale senso di stanchezza, rassegnazione e frustrazione, sconfitta. Il fantasma del mostro è apparso incontrato a Ulmo Vincenzo, ogni potenza. Sembrava cosa fatta, la posizione piegata. Ho perlomeno stabilizzato il generale fuori del generale. Venevi che si vanno a prenderli loro, i papiotti. Ho avuto un'uscia, guarda dove ti guardo. L'arrivo dei tre, ritirco delle antenne sanitarie. Nella mente di alcuni matura una decisione sciorta, quasi una scelta obbligata. Se la salute è ancora un diritto fondamentale, è inagliabile anche per un essere libero. L'arrivo dei tre.